Musica Come hanno appena detto, insomma una persona, un passante dice si fa una grande programmazione. In questo momento c'è il sindaco del Rione Sanità con la regia di Mario Martone, 14 attori in scena prodotto dal Teatro Sabile di Torino e dalla LDF e dal Napoli Est Teatro dove il protagonista è Antonio Baragano che ha 75 anni e infatti lo interpreto io con Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino, stiamo venendo a prendere tutto in coppia di spalla a casa. Il Napolibus raddoppia, dal mese di marzo sono due le linee attivate dal comune di Napoli per portare gratuitamente gli spettatori a teatro. Consolidiamo e ampliamo questa esperienza del Napolibus che è un modo per costruire legami culturali, civili tra tutto il territorio della città senza barriere, confini dimostrando che l'arte, in particolare il teatro che insieme alla musica è la forma principale di espressività della tradizione artistica millenaria di questa città. Tutto questo avviene dovunque nel nostro territorio cittadino. La linea 1 parte da Piazza Bovio verso i teatri dell'area Est, ossia Sala Icos, il Nest e il Beggars Theatre. La linea 2 parte dal Museo Archeologico e va verso il Vomero e i Colli Aminei per poi raggiungere il Teatro Area Nord e il nuovo Teatro Sanità. Periferia non significa necessariamente periferia culturale e questo è fondamentale perché stiamo dando prova sia nell'area nord ma anche in quelle periferie che sono nel cuore stesso della città. Parlo del Teatro Sanità e ovviamente di tutta l'area Est che ha visto in un'improvvisa fioritura, poi tutto sommato ha anche una visibilità maggiore in quest'ultimo periodo con progetti di alta qualità. E questo secondo me è fondamentale perché se vogliamo provare a spostare pubblico dal centro città verso la periferia, noi dobbiamo puntare esclusivamente e soprattutto sulla qualità delle proposte che facciamo. Non è tanto raccontare la periferia ma raccontare le cose del mondo attraverso uno sguardo di periferia. Il teatro, anche il palco del teatro, se non c'ha una visione periferica il teatro non può darsi. Le telecompagnie sono normalmente i nostri ospiti, a casa nostra mangiano con noi e è un discorso più ampio dove la conoscenza va attraverso il teatro, si trova oltre il teatro che poi è la cosa che più, alla fine è la cosa che conta di più. Venendo al teatro Aria Nord si incontra una comunità anche che è residente nel teatro che è fatta da tante persone che lo abitano e lo gestiscono. E poi c'è proprio l'idea anche nel post spettacolo di rimanere insieme, di parlare di quello che abbiamo visto, di bere un bicchiere di vino insieme, questo per noi è fondamentale. La navetta è anche un piccolo foyer viaggiante per far incontrare spettatori e artisti e per godere di piccole performance improvvisate. C'è un aspetto che ci accomuna, che accomuna Sala Icos, che accomuna il Nest e che accomuna il Beggars e che noi potremmo definire di ecologia del teatro. Tutte le strutture che sono nate in questi anni e che non nascono oggi ma sono molto radicate sul territorio e operano sul territorio da diversi anni a questa parte, hanno in comune questo aspetto, cioè la capacità di aver recuperato l'esistente, di aver trasformato gli spazi urbani di Napoli Est e di aver trasferito a quelli che prima erano luoghi di produzione, luoghi di lavoro, una vocazione culturale, artistica, espressiva e di socialità che quei luoghi avevano perduto.